A Firenze, visto che la prossima di campionato sarà sempre di lunedì sera, Fiorentina-Napoli, quali sono i punti deboli della Fiorentina e cosa può fare il Napoli per scardinare quella difesa? I punti deboli, non so se la Fiorentina ha punti deboli, ha un modo di giocare che assomiglia un po' al Napoli, grande possesso palla, però gioca con una difesa a tre, il Napoli si ritroverà uno contro uno con i difensori. Il Napoli deve essere bravo soprattutto nella riconquista della palla, nel momento in cui si riconquista palla e si riesce a giocare in velocità, il Napoli può mettere in difficoltà la Fiorentina.